Grazie alla Caria di Nuove Tecnologie Arredamenti di Guspini. Presentiamo un progetto di rete con iliana cooperativa che produce gli oli essenziali linea bambino 012. Praticamente il legno che utilizziamo per fare la culla del bambino e la cameretta è additivata con l'olio essenziale di elicriso e di lentisco, quindi profuma. Tutti i materassi, le coperte, le lenzuola, i cuscinetti sono additivati con lo stesso olio essenziale di lentisco che l'Università di Cagliari ha studiato e ha dichiarato che ha dei poteri curativi sul bambino e sono eccezionali. Il nostro compito è quello di promulgare innovazione nell'arredamento, nella cura della casa e della persona. In questo caso ci siamo dedicati al bambino a 360 gradi insieme a loro.